Artisticamente donna è una rassegna d'arte a 360 gradi per ricordare tutte le donne, per celebrarle davvero in ogni forma. Sì, essere donna oggi è una grande impresa perché la donna non è che fa soltanto la mamma, la casalinga, una donna riesce a fare un po' tutto come ad esempio quello che già avete visto, quindi l'arte, quadri, cucina, si riesce a combinare un po' di tutto perché poi dobbiamo anche riuscire a combinare, a combaciare ciò che fa la donna a casa, quindi essendo moglie, essendo mamma, essendo un po' di tutto. La creatività è donna, voi avete rappresentato questa mostra davvero con tantissime diverse forme creative. Sì, ho cercato di raggruppare tutte le donne di gele e del comprensorio, tutte le donne che hanno qualcosa da dire, qualcosa da dare nel loro intimo, la loro arte. E quindi abbiamo le pittrici, le artigiane, il cucito creativo, abbiamo un ospite di Mazzarino, Elisa Garziano, che dipinge queste belle borse, adesso la voi potete vedere. Abbiamo avuto Sonni Raggi che ci ha dato questo piacere di creare questa cucina art donna. E questo è il secondo anno che siamo qua e sono stata molto felice e contenta di averle di nuovo tutte qua, anzi siamo di più di quest'anno. Che cosa si augura? Un augurio per tutte le donne che ci stanno seguendo? Allora, l'augurio è quello di... io oggi ho messo una foto, bisogna sempre non tirarsi mai indietro, andare avanti sempre. Comunque di fronte anche alle difficoltà, alle problematiche della vita, della famiglia, bisogna avere lo spazio per se stessi. Per poter uscire fuori anche da quei problemi, da quei pensieri che ci affliggono. Perché è chiaro che ognuno di noi abbiamo tante cose da affrontare, abbiamo le famiglie. Però io quando mi vado a scuola di pittura, per esempio, io dimentico tutto. In quel momento non esiste più niente. E quindi è uno spazio per noi, per liberarci, per pulire la mente e dedicarci a tutto quello che a noi piace.